Buongiorno a tutti, giovedì 29 di agosto, focus ovviamente sulla trimestrale di NVIDIA che ha nuovamente battuto tutti i record perché il fatturato è stato superiore a 30 miliardi di dollari contro le stime di 28,68 e soprattutto l'EPS che è quello che guardano di più gli americani che è l'equivalente del nostro price earning è stato a 0,68 dollari per azione contro 0,64 previsti, quindi i risultati sono cresciuti di un 154% nei ricavi dei data center a 26,7 miliardi e le previsioni per il terzo trimestre sono a 32,5 miliardi superando le stime di 31,9. Però cosa è successo? Vi avevo già anticipato questa eventuale criticità che l'outlook non è stato così entusiasmante. In particolar modo ci sono ancora dei ritardi per questi chip Blackwell dell'intelligenza artificiale e di conseguenza il titolo è stato penalizzato nel mercato serale arrivando a perdere l'8%. Questo si è tradotto ovviamente in vendite anche su Taiwan Semiconductor e è per questo motivo che soprattutto Standard & Poor's e Nasdaq come vedremo tra poco hanno preaperture moderatamente negative anche se la situazione non è a mio avviso drammatica al momento. Per quanto riguarda le chiusure di ieri dei principali indici americani vi confermo sostanzialmente quello che vi avevo detto. Probabilmente per le prossime sedute ci sarà un trading range compreso tra 40,295 e 41,420 per il Dow Jones, per lo Standard & Poor's 500 avremo invece 5.501, 5.651, per il Nasdaq Composite 17,375, 18,017, Nasdaq 100 invece 19,239, 19,938. Diamo uno sguardo anche a Russell che continua la sua fase di correzione di breve periodo, io ho detto che potrebbe tornare fino a 2159, minimo 23 di agosto. Fuzzi Meal Futures ieri bene comunque perché conferma la chiusura sopra la media mobile a 100, 33,840, massimo 34,060, chiusura 33,990. Primo obiettivo 34,335, poi 34,450. Prima di passare ai futures diamo uno sguardo al calendario economico perché oggi abbiamo un dato importante in Europa peraltro nel primo pomeriggio che è l'inflazione in Germania alle ore 14 vista addirittura invariata quindi veramente incredibile come la BCE abbia tagliato solo una volta con la situazione economica che c'è in Germania. Diciamo che i tedeschi sono anche un po' autolesionisti perché l'inflazione è assolutamente sotto controllo, vedete l'annuale prevista a 2,1 e sostanzialmente non c'è crescita economica in Germania. E poi abbiamo molti dati importanti per quanto riguarda gli Stati Uniti, richieste di soccopazione continua che è quello che piace di più a me perché dà un po' il polso alla situazione, visto leggera crescita, 1,8 milione, 70, indice PC, prezzi principali, visto in calo 2,90% dal 3,70, cioè più 2,90 da più 3,70, il PIL trimestrale visto a più 2,8 da più 1,4, io non so come facciano esserci queste escursioni per gli Stati Uniti che sono veramente da paese in via di sviluppo certe volte, richieste, sussidi, disoccupazione, ma vedete ce ne sono veramente diversi. Quindi la conseguenza di tutto questo per oggi a mio avviso è di un mercato probabilmente più volatile, anche se i futures stanno dimostrando, e lo vedremo tra poco, che per il momento la situazione è ancora abbastanza sotto controllo e dovrebbero aumentare anche leggermente i volumi perché nelle ultime sedute sono stati davvero troppo, troppo modesti. Aspettiamo un attimo che carichi i futures. Vi anticipo già che per esempio addirittura il Dow Jones era moderatamente positivo, vedete più 0,24%, Standard & Poor's 500, meno 0,26, Nasdaq 100, meno 0,51, RAS 2000, più 0,26, DAX più 0,11, CAC più 0,09, Eurostox meno 0,12, Nikkei più 0,60, Hang Seng più 0,44, Singapore più 0,86, Cospi meno 1,26. Quindi tutto sommato, situazione, ripeto, abbastanza tranquilla, nonostante il calo marcato di Nvidia nel mercato serale. Notizie price sensitive. Di Brunello Cucinelli siamo già occupati ieri, ribadisco il fatto del più 14% nei primi sei mesi di fatturato, una buona crescita dell'utile a 66 milioni di Euro e per tutto il 2024 la società prevede una crescita del 10%. Passiamo invece a Eni perché c'è Morgan Stanley che ha migliorato il giudizio a overweight da equal weight target price 18. Per il momento credo che in realtà, avendo ieri mantenuto la media mobile a 214,66, possa sì recuperare, ma non a un target di 18 Euro, almeno nel breve, 14,882, 14,912 e poi, direi, chiusura gap minimo 15 di maggio, 15,002. Mediobanca ha collocato un cover head bond scadenza a 7 anni per un importo pari a 750 milioni di Euro, l'emissione ha registrato ordini superiori a 1,1 miliardi, il 74% provenienti dall'estero. Vi ho già detto come il titolo per me è impostato per tornare sui massimi del primo di agosto, 15,37, era un'emminiscenza la mitica 0,37, i meno giovani ricorderanno. Allora, per quanto riguarda Moncler, invece, io non ricordo bene questo accordo di consultazione con Grinta, che poi in realtà è, dietro il Grinta c'è la famiglia Rivetti, però praticamente questo veicolo della famiglia Rivetti ha comunicato la propria disdetta dell'accordo di consultazione stipulato il 24 febbraio 2024 con efficacia 10 di settembre. Ecco, io sinceramente non ne ricordo i dettagli di questo accordo, questa mattina, perdonatemi, non ho avuto tempo di andarlo a rivedere, però ribadisco tecnicamente quello che ho già detto ieri, un trading range tra 54,12 e 56,36. Concludo con Stellantis, sembra sempre che piova sul bagnato, almeno in questa fase, per Stellantis, perché una fondazione indipendente dei Paesi Bassi ha intentato un'azione legale collettiva contro il gruppo per presunti raggiri condotti da parte di Fiat Chrysler nel testo di emissioni, secondo un documento visto da Reuters. Qui abbiamo al momento un trading range di breve compreso tra 14,716 e 15,292. Io, come vi ho già detto, nonostante tutte le brutte notizie che stanno uscendo sul titolo, poi ci sono anche le immatricolazioni, vediamo poi stasera magari di parlarne, c'è la possibilità di tornare fino a 15,94,2, però per questo obiettivo necessariamente il titolo non deve perdere il minimo del 22 agosto, 14,716. Con questo concluso auguro a tutti buon trading e vi aspetto più tardi in diretta su Class NBC per analisi tecnica dalle 11 alle 12.